Grazie a tutti. Ti deve far studiare, ti deve far vestire, ti deve dare la paghetta. Come fa? Se il suo lavoro è fare l'attore, chiaramente quando lavora deve avere uno stipendio, una paga. E qui c'è il passaggio da chi lo fa a livello amatoriale, perché magari fa un altro lavoro e poi la sera, anziché andare in palestra, lavora con altre persone per realizzare uno spettacolo teatrale. A livello amatoriale significa che lo fa volontariamente, quindi lo fa per passione senza percepire un euro. Se lo inizia a fare a livello professionale, quindi a dedicargli del tempo, vuol dire che non ha più tempo per fare altro. Di conseguenza, siccome deve far campare te, tua madre e i tuoi fratelli, se ce li hai, deve far sì che quello sia un lavoro riconosciuto, remunerato. Ora, il passaggio appunto da una compagnia che lo fa a livello magari amatoriale all'inizio, poi decide di fare un passetto in più per fare spettacoli e quindi di venderli e quindi di fare un passaggio professionale, è quello di qualsiasi altra impresa imprenditoriale. Cioè tu stai facendo, se vuoi fare un lavoro, devi comportarti esattamente come fa qualsiasi imprenditore, trovare un piccolo capitale o un grande capitale in base al progetto che ti consenta di realizzare quell'idea che tu hai. Come fai? Ne stavamo parlando prima con Domenico. Non è che ci sono tante possibilità. Se io con voi cinque voglio fare un progetto e servono 6.000 euro, cosa dobbiamo fare? O mettiamo 1.000 euro a testa o troviamo 1.000 euro a testa. Oppure uno di noi, molto spesso capita anche questo, dice ce li ho io, mi fido di voi, metto io sul tavolo 6.000 euro. Se nessuno di noi ce li ha, oppure di quei 6.000 hai solo una piccola parte, l'altra possibilità qual è? Di mettere, come fanno gli imprenditori, a rischio il proprio capitale. Quindi se ho una casa, vado in banca e gli dico, senti direttore, per favore, ho una casa, vale 100.000 euro, mi fai un prestito di 6.000 euro e quindi metti a garanzia a casa tua e quindi anche il tuo futuro. Voi sapete che gli italiani, per l'80% hanno investito tutti nel mattone, quindi tutti i suoi proprietari di casa. Quindi io vado in banca, io ho casa mia a garanzia dei progetti del Kismet, così come ce li ha il presidente del Kismet, tutti i soci, quando chiedi un prestito in banca, devono mettere a garanzia i propri beni. Quindi non è diverso da qualsiasi altro imprenditore, perché vi ripeto, l'essere artista è una via di mezzo da libero professionista, quindi decido io quelle della mia vita, è essere un dipendente. Infatti nelle cooperative ci sono i soci, i lavoratori. Quindi io metto a garanzia a casa mia, ho i 6.000 euro dalla banca e posso partire con il progetto. Oppure, come dire, trovo, guardate quanto sono carini, sono dei potenziali sponsor, faccio una campagna di sponsorizzazione e mi faccio dare quei soldi da loro. In cambio, che cosa gli do? Visibilità. Se il mio progetto è bello, per loro avere il loro marchietto sulla mia locandina può essere una questione di prestigio. Quindi pur di essere menzionati e dentro quel progetto dicono, vabbè, te li do io quei 6.000 euro, perché ci credo nel progetto, voi mi piacete, faccio questo tentativo. Non ho un ritorno economico, perché non è che io li restituisco, però il mio potere comunicativo arriva anche a persone che possono essere dei clienti per quello che faccio. Quindi avere il logo, il mio marchietto sulla locandina dello spettacolo teatrale che noi abbiamo realizzato e che vedranno tutti i nostri spettatori, che vedranno tutti gli operatori culturali a loro volta, potrebbe portare dei vantaggi anche allo sponsor. Queste sono le tre logiche. Non avete mai pensato di acquistare la struttura del chismet? Allora, ci abbiamo pensato un milione di volte, perché con il fito che abbiamo pagato ce ne saremmo comprate almeno due. Appunto. Il proprietario non ha mai voluto vendere. Non ha mai voluto vendere. Eh certo. Quindi questo è stato un problema. Li fa comodo, no? Perché sappiate che nella zona industriale di Bari la metà dei capannoni sono sfitti. Quindi sa benissimo che, come dire, un cliente come noi, perché noi lo paghiamo in ritardo, ragazzi, cioè noi fondamentalmente non avendo una certezza delle dinamiche finanziarie, che significa quando tuo padre ti dà la paghetta tu sai che li puoi spendere. Ma quando tuo padre te l'ha promessa, non sai quando li avrai. Giusto? Quindi tu non è che vai in un negozio e dici, no, mio padre tra tre giorni me li dai e te li porto. Vai in quel negozio a fare compre quando tuo padre effettivamente te li ha dati. Questa è la certezza finanziaria. E non è molto diversa da come tu gestisci un'impresa. Esattamente quello che tu fai nella tua vita tutti i giorni deve essere la logica con cui costruisci una gestione aziendale. Quindi noi abbiamo pensato un sacco di volte. Però chiaramente il proprietario non ce lo vuole vendere. Oppure sa benissimo che è uno spazio talmente importante a livello culturale per la città e per noi che lo sopravvaluta. Quindi se vale un milione di euro, probabilmente, e c'è successo per quando noi gli abbiamo fatto le proposte, ci dice se me ne date due forse ci penso. Perché lì i due milioni di euro come li trovi? Andiamo per l'ennesima volta in banca, mettiamo a garanzia le nostre case, tutto quello che abbiamo, per ottenere in mutuo dalla banca oltre che mettere poi anche il capannone. Per questo, piuttosto che impegnare le vostre case nel mutuo, impegnare la struttura. La struttura, come quando acquisti qualsiasi appartamento, cioè se tu acquisti casa tua, dai a garanzia quella casa. Però purtroppo il proprietario ha capito che è una gallina dalle uova d'oro, perché noi comunque in ritardo abbiamo sempre pagato. Allora, che cosa significa questo? Il fatto di lavorare significa che tu devi sottostare una serie di norme e di regolamenti. L'altra formula per ottenere dei fondi è quella di partecipare a dei bandi. Non so se voi ne avete mai sentito parlare, però la regione Puglia, soprattutto per gli under 35, perché sappiate voi quanti anni avete? 17-18? Allora, per la regione Puglia, ma perché glielo dice la Comunità Europea, gli under 35 sono tutti qualche ministro, ci definì così bamboccioni, quindi hanno diritto ad avere, come dire, delle agevolazioni. Da una parte è giustissimo, dall'altra parte, ad esempio, non ti dà la possibilità di crescere, bisogna sfruttare bene queste occasioni. Però la regione Puglia è stata una delle prime regioni in assoluto, voi tra un po' siete maggiorani, qualcuno di voi forse già lo è, perché, ad esempio, ho fatto delle politiche rispetto appunto ai giovani, con l'assessorato alle politiche giovanili, da cui nasce anche questo progetto dei laboratori urbani, che si chiamano Principi Attivi. Principi Attivi sono dei fondi da non restituire, cerco di essere proprio semplice nella spiegazione, cioè io ti do dei soldi che tu non mi devi più restituire per farti realizzare quel progetto di cui parlavamo prima. Significa però che quel progetto, intanto tutto lo devi chiarire nella tua testa, devi leggere quello che c'è scritto nel bando, leggere attentamente, e vi posso, ve l'ho detto prima, la gente in Italia, la gente che legge è pochissima. Io ho partecipato a centinaia di bandi e ho visto imprese anche importanti che si dimenticavano una cosa perché non avevano letto bene. Tutti siamo in grado di leggere. È chiaro che tu, se sei allenato a leggere dei bandi o sei studiato e hai quelle competenze, è più facile. Se lo fai una volta ogni tanto o lo fai una volta e basta, è molto più complesso. Però sono strutturati anche dal punto di vista della prosa in maniera tale che un giovane di 18 anni, perché bisogna essere maggiorenni, possa leggerlo, capirlo e fare un progetto come si deve. Ad esempio, i principi attivi hanno dato la possibilità a centinaia e centinaia di ragazzi che avevano un'idea artistica o un'idea imprenditoriale di qualsiasi altro tipo o un'idea legata al terzo settore, quindi al mondo del sociale, di scrivere quel progetto, presentarlo e molti di loro hanno avuto ad esempio 25 mila euro a fondo perduto, quindi quando uno ti dice non li devi restituire significa a fondo perduto, è utilizzarli per il loro progetto. Ora, perché io... Posso? Sì. Dato questa premessa, appunto per questo io volevo capire più tecnicamente, cioè una persona che legge un bando e comunque si trova ad avere a che fare con tante norme che vincolano quel tipo di bando, qual è la chiave di lettura? Tu che hai più esperienza di noi, sicuramente lo saprai, avendone visti tanti, cioè la chiave di lettura significa qual è quella chiave che apre il lucchetto di quel bando, cioè qual è la cosa che si ritrova generalmente, quasi in tutti, dove uno può puntare... Allora, prima ne parlavo con Domenico, esattamente di questo. Oltre all'esclusività del progetto che uno sa portare... No, per leggere un bando dovrebbe avere, dovrebbe essere un dottore commercialista, quindi un fiscalista, dovrebbe essere probabilmente anche un legale, che non dico che sia un avvocato, ma abbia fatto anche sappia di norme legali, dovrebbe essere un amministrativo, quindi un imprenditore che sappia gestire delle economie, però, cioè è evidente, non è che tu sai fare tutto, oppure hai, come dire, un'impresa dove c'hai consulente legale, consulente fiscale, consulente del lavoro, perché altrimenti, cioè, se tu avessi tutta questa organizzazione, non staremmo parlando di qual è la start-up, ok? Allora, le cose fondamentali intanto sono due. Prima l'ho detto, questo bando, ad esempio, che è molto semplice, essendo destinato ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni, è anche scritto in maniera molto semplice, quindi non ti dà, come dire, quel tipo di problematiche. Passiamo invece ad un altro tipo di bando. Io sono quello che ha il chismet, trova i soldi, quindi sono quello che si studia i bandi, e vi posso garantire che ce ne sono alcuni molto banali, altri molto complessi. E soprattutto, non è che io ho la forza economica per pagare un avvocato ogni volta che devo, vedo lì, come dire, le articoli del Codice Civile che vengono menzionati, non so quanti di voi abbiano mai letto un bando, ma ce ne sono alcuni complicatissimi. Non ho le competenze io, però, intanto me lo leggo, cento volte, mille volte me lo devo leggere, intanto vado a leggere io quello che dicono gli articoli, anche perché, anche quando ce li hai i consulenti, magari ti danno la risposta sbagliata. Purtroppo l'italiano è una libera interpretazione, ormai. Cioè, quindi, ognuno ne fa uso e consumo, ok? Quindi, intanto, tu o hai una schiera di consulenti, o sei da solo, lo devi sapere meglio di tutti quello che c'è scritto lì. Dopodiché, o sei un dipendente, o sei un libro professionista, o sei un volontario, ti devi comportare esattamente allo stesso modo. Gli devi dedicare tempo, perché tutto quello che tu hai studiato, che tu hai preso come appunto perché non ti è chiaro, devi andare a parlare con i consulenti, devi andare a parlare con gli uffici, e soprattutto devi utilizzare quegli strumenti, ecco perché dico che molta gente ignora, quando dico che gli artisti sono ignoranti, perché ignorano, perché non si informano, perché siccome quasi tutte le compagnie di spettacolo, di musica, o di teatro, o di danza, nascono dalla parte artistica, non è che io sono uno che ha competenza amministrativa e organizzativa e faccio la compagnia teatrale, se fossi un attore probabilmente la farei. Quindi i primi passi sono fatti da gente che magari ama fare la parte di spettacolo, probabilmente. E non è che nasce una compagnia teatrale, il giorno dopo c'è già il direttore organizzativo, il consulente legale, il consulente fiscale, non si andrebbe mai da nessuna parte, sarebbe impensabile, è enormemente costoso. Quindi ognuno di noi deve fare, con quello che è capace, tutto il possibile. Vuol dire che tu ci devi dedicare del tempo, quando io dico che non faccio differenze tra chi lo fa a livello amatoriale e chi lo fa a livello professionale, perché magari ti capita di vedere e assistere a spettacoli di teatro amatoriale molto ben fatti, e di assistere a spettacoli di compagnie professionali che non funzionano per niente. E magari scopri, andando ad approfondire, che la compagnia amatoriale ci ha lavorato due mesi, tutti i giorni, sei ore al giorno, e la compagnia professionale, vi posso garantire che esistono, in due giorni ha messo in scena lo spettacolo, non posso dire le parolacce perché siamo in diretta streaming, ha fatto questa cosa e è andato in scena. Si è preso il cachet. Si è registrato. Ah, peggio. Ed è andato in scena. E vi posso assicurare che esistono questi fenomeni. Quindi la stessa applicazione che tu dai quando fai uno spettacolo teatrale la dovresti dare quando invece devi lavorare su un progetto molto più complesso. Allora, io che cosa faccio? Cioè il Kismet, prima che arrivassi io, non ha mai partecipato ai bandi di gara. ha partecipato a progetti di finanziamento legati alle normative del ministero e quant'altro. E siamo arrivati a, tra l'altro, noi lavoriamo tantissimo con l'estero e con la comunità europea direttamente, non attraverso gli enti locali. Però che cosa faccio io? Me lo leggo, me lo rileggo, me lo straleggo, vado a vedere punto per punto tutti gli articoli che vengono citati. Perché il primo che deve capire cosa non ha capito sono io. dopodiché chiamo tutti gli amici che secondo me hanno le competenze perché non ho ancora la possibilità di avere mille consulenti per approfondire. E dopodiché non me ne vado dagli uffici della regione o del comune o della provincia o del ministero finché quella risposta non ce l'ho. E soprattutto utilizzo gli strumenti che adesso ci sono, prima non c'erano, tipo le FAQ. Le FAQ sapete che cosa sono? Sono delle domande che tu poni all'ente e l'ente è obbligato a risponderti. Perché, ricordatevi, una pubblica amministrazione non deve parlare, deve scrivere. Se io ho un dubbio sull'articolo che è citato in un bando e chiedo a voce a un funzionario pubblico che cosa significa quella cosa e lui mi risponde dicendomi una cavolata, io non potrò mai dimostrare che l'ente ha sbagliato a darmi l'informazione. Me lo deve scrivere. Quindi questo lavoro che prevederebbe una marea di competenze e di professionalità che nessuno si potrebbe garantire a meno che non sia il piccolo di Milano o il teatro argentino a Roma perché, cioè voglio dire, ha milioni e milioni di euro di finanziamento e quindi ha mille possibilità e quindi mille consulenti, deve iniziare innanzitutto a conoscere quello di cui sta parlando. Conoscere lo significa come dire, impegnarti ore e ore, leggere, leggere, leggere perché la gente è scivolata su delle banalità, su un documento di identità che non è stato allegato alla domanda, su delle banalità e c'era scritto. Ecco perché io dico molta gente non legge, allora innanzitutto significa leggere e poi prenderlo come un lavoro anche se lui non è remunerato per quello che sta facendo oggi però lo considera come un lavoro. Allora non è che il passaggio è automatico, siccome oggi dedico otto ore al giorno della mia vita questa cosa in automatico è un lavoro e qualcuno mi paga uno stipendio perché nella professionalità dell'artista delle compagnie teatrali tu stai investendo su te stesso è come quando apri un negozio tu stai lì dalla mattina alla sera e magari probabilmente il primo anno i primi due anni entrano pochissimi clienti e probabilmente il tuo investimento non ti porta uno stipendio e quindi non puoi dare la paghetta a tuo figlio è come tutti gli altri lavori quindi il percorso deve essere coerente e soprattutto ti devi vedere impegnato come in qualsiasi altra cosa quando poi arrivi al punto che la tua piccola associazione il tuo piccolo gruppo è cresciuto ti doti delle competenze che ti mancano ma soprattutto la cosa importante è che se lui domani chiama un direttore organizzativo perché è il teatro sospeso è cresciuto a livello tale che deve gestire una serie di informazioni economiche e non lui deve sapere più o meno di che cosa sta parlando perché altrimenti non potrebbe neanche da presidente della società il teatro sospeso verificare quello che fa il direttore e non può essere che io lo chiami o è un mio socio e quindi ok oppure se è un mio dipendente non vado in automatico devo conoscere il più possibile quello che sto facendo è quello di cui sto parlando è molto comodo infatti tu l'hai detto prima le norme sono interpretabili ma non è proprio vero sempre perché alcune volte e sappiatelo tu puoi partecipare a un bando di gara farlo nella maniera perfetta e comunque essere escluso perché non c'è solo una valutazione sui documenti presentati c'è anche una valutazione qualitativa su quello che hai scritto e su quello siccome è soggettivo chissà dall'altra parte può dire che il tuo progetto è più brutto del suo e ma tutta l'applicazione normativa che c'è questo è un progetto però nel momento in cui noi scriviamo un bando o comunque lo compidiamo come c'è per esempio parlando dei cicliattivi è quasi identico per ognuno la scelta del aspetta è quasi identico per ognuno il formulario quello è identico il formulario è uguale per tutti certo però io quello che dico nel momento in cui c'è una scelta dall'altro lato c'è dell'ente che deve scegliere il mio rispetto a un altro è ovvio che si baserà molto su quello che io presento come progetto creativo o tutto ciò che c'è dietro adesso ci sono dei parametri di valutazione per darti dei punteggi io voglio capire dalla tua esperienza il parametro che una persona va faccio un esempio in molti bandi si incentra molto il bando ad oggi sulla tecnologia le innovazioni che vengono apportate in quel dato settore certo ok nel momento in cui io vado a proporre una nuova tra virgolette un'innovazione in quell'ambito non è detto che il mio interlocutore che valuta il mio bando sia non dico competente ma in un certo senso abbia colto il mio progetto ma è così cioè come io posso tra virgolette sottolineare e accrescere il valore ma questa non è una problematica tecnica ci sono altri due livelli su cui devi ragionare uno ci sono artisti di livello internazionale che sono stati bocciati a dei provini o a dei casting perché chi ha come dire lo ha giudicato lo ha giudicato male e poi magari quello è diventato un grande attore ci sono fiori di attori che hanno fatto questa esperienza è così come nei bandi tu devi fare il tuo allora innanzitutto il lavoro che faccio io è questo così ci capiamo ci sono dei siti informativi intanto vedo che bandi sono stati pubblicati ho il primo filtro è capire se quel bando è coerente a quello che io faccio perché sappiate moltissimi pur di ottenere dei soldi cambiano assolutamente quello che hanno fatto fino a quel momento e si improvvisano ok allora se io sono un imprenditore serio e mi occupo di quello e quello so fare o quel bando è coerente un mio percorso di crescita una mia visione imprenditoriale ma cambiare completamente perché ad esempio ci sono cooperative sociali che stanno anche nel mondo dello spettacolo perché lì ci sono i soldi allora innanzitutto devi fare un filtro rispetto alla tua visione imprenditoriale uno e alle tue capacità due tu l'obiettivo che hai è quello di scrivere il miglior progetto possibile non puoi è una valutazione soggettiva dall'altra parte quindi non puoi cioè puoi sperare che lui comprenda quello che tu hai scritto tu l'unica cosa che puoi fare è scriverlo nel migliore dei modi e l'altra cosa che è fondamentale non sbagliare nella presentazione dei documenti perché se tu sbagli nella presentazione dei documenti non arrivi neanche alla valutazione qualitativa ti escludono prima se lì c'è un elenco di documenti che tu devi produrre la carta di identità eccetera 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 ce ne saranno centinaia per ogni bando se tu non sei attento a quello non arrivi neanche alla valutazione qualitativa dopodiché siccome la valutazione qualitativa è soggettiva da parte della commissione quello su quello tu non puoi fare assolutamente nulla se non impegnarti nel più tempo cioè non c'è una regola per fare una cosa del genere magari esistesse io mi vanto di non essere mai stato escluso per la documentazione amministrativa perché sappiate che non è automatico cioè purtroppo in Italia non c'è la logica di premiare il più bravo perché se io venissi ad Andria a presentarmi a partecipare a un bando e mi è successo trovano un sistema perché se qualcuno ha deciso che lo deve vincere Domenico Tacchio lo vincerà probabilmente Domenico Tacchio e mi è capitato che sono stati annullati i bandi perché se non venivano annullati vincevo io a posto suo pur di non darlo a me venivano annullati allora questo è un mondo molto complesso molto complesso quindi non c'è una regola è come quando tu fai un colloquio di lavoro o partecipi a un bando di selezione per entrare in un ente pubblico alla fine c'è un colloquio allora se tu hai fatto bene tutti i quiz hai presentato bene tutti i documenti e arrivi al colloquio al colloquio è una valutazione soggettiva della commissione del presidente di commissione cioè è lì non ci puoi far nulla allora detto questo una regola non esiste io quello che vi sto cercando di spiegare innanzitutto di applicarvi nelle cose di leggere per bene i progetti che vi si presentano e capire se sono coerenti con quello che voi sapete fare perché se ci sono 10 milioni di euro su una cosa che voi non avete mai fatto probabilmente magari ve li aggiudicate pure ma probabilmente spendete mali soldi probabilmente mandate all'aria quello che sapete fare perché vi state concentrando tutto su un'altra materia e va tutto a quel paese allora bisogna stare molto attenti considerate che fino a qualche anno fa non esistevano proprio questi bandi non esistevano proprio questi fondi però la gente che ha adesso 40-50 anni comunque ha fatto le cose allora partecipare a un bando se io ho un progetto imprenditoriale teatrale non è che non lo faccio perché non è uscito un bando legato a quel tema devo trovare di mio come dire la copertura e la progettualità per poter far sì che la cosa si realizzi non devo aspettare che esce un bando ad hoc per me perché quando esce un bando ad hoc per me vuol dire che qualcuno che io conosco l'ha scritto per me forse glielo ho già glielo ho dato io che è come copiare un compito in classe è uguale barare allora io ho un'idea imprenditoriale devo trovare con le mie capacità la forza di farlo il Kismet non è che è nato avendo finanziamenti pubblici il Kismet quando sono nati i progetti di laboratori urbani esattamente come questo non ha fatto altro se ci pensate esattamente quello che ha fatto la regione Puglia nell'abito dei laboratori urbani però privatamente ha preso uno spazio l'ha ristrutturato l'ha redato l'ha attrezzato e l'ha fatto vivere e non è che c'erano fondi magari oggi nasce un nuovo Kismet partecipa a un bando di laboratori urbani e trasforma uno spazio come questo in un Kismet del 2015 però i bandi devono sorreggere le attività che fai ad esempio una cosa importante per una piccola impresa è la formazione e ci sono decine di bandi sulla formazione perché ad esempio una delle cose su cui il Kismet ci ha sempre tenuto perché il Presidente Augusto Masello ha sempre detto unire artisticità ed economicità allora lì è essenziale nel momento in cui c'è la Regione Puglia assessorato al lavoro che fa dei bandi sulla formazione noi siamo andati a parlare con il Ministero del Lavoro a Roma perché gli spiegavamo siamo un'impresa di spettacolo ma siamo una cooperativa abbiamo 37 dipendenti perché non ci vuoi dare finanziamento per formare i nostri dipendenti perché voi considerate che per il mondo dell'industria non esiste il mondo dello spettacolo come industria soltanto negli ultimi anni si sta parlando dell'industria creativa quindi noi non eravamo anche essendo una cooperativa considerate neanche un'impresa siamo andati a parlare a Roma ecco perché dico ci devo credere io per primo e devo fare la cosa devo fare tutto quello che posso per realizzare la mia visione allora voglio formare i miei dipendenti perché i miei dipendenti cioè non è che in una struttura teatrale non c'è chi fa la prima nota non c'è chi fa la segreteria non c'è chi fa un allocandino un volantino e quindi formarsi significa anche sapere utilizzare degli strumenti che fino al giorno prima non sapevi utilizzare quindi su quei bandi ad esempio noi siamo andati noi perché i primi a fare un progetto di formazione in Puglia siamo stati noi perché la regione di Puglia aveva detto ma voi non c'entrate nulla eppure noi versiamo gli oneri all'Inps versiamo gli oneri all'Empals che ora non esiste più paghiamo l'Inail perché non dobbiamo essere considerati al pari di uno che fa i divani siamo riusciti a convincere il ministero del lavoro che ha trasmesso una lettera alla regione Puglia in cui ha detto no è un'impresa a tutti gli effetti può partecipare ai bandi di informazione e noi attraverso i bandi di informazione siamo riusciti ad avere docenti che magari non avremmo mai potuto avere come il lavoro che sta facendo lui con i laboratori dal basso il sostegno che cioè la parte di finanziamento che dava la struttura era rinunciare a mille ore lavorative dei propri dipendenti perché in quelle ore si formavano non lavoravano però detto questo nel momento in cui tu hai un'idea devi decidere di farla e devi capire anche che strumenti hai non tutte le cose che ti vengono in mente sono quelle giuste devi avere la capacità di fare un filtro e poi di avere una visione generale perché molto spesso quando qualcuno ha avuto dei soldi partecipando a un bando se non ha fatto tutte le valutazioni per bene prima e ha come dire ha fatto un suicidio uno degli altri esempi su come sono cresciuti il sistema culturale pugliese è molto cresciuto negli ultimi anni prima fino a 7-8 anni fa non esisteva i Petruzzelli cioè la fondazione lirico-sinfonica non esisteva non esisteva Puglia Film Commission non esisteva Puglia Sound per noi è successo qualcosa di incredibile in tutto il resto d'Italia esistevano da anni da anni quindi non ci siamo inventati nulla sono nati dobbiamo dire grazie all'aggiunta Vendola hanno costruito un sistema il sistema però adesso è a livello di enti perché sono agenzie regionali scusate siamo entrando un po' nei tecnicismi però sono così importanti a livello di strutture private io ve lo dirò domani perché oggi non vi volevo tediare con le carte perché altrimenti erano 12 ore di delirio però da uno studio fatto è presentato nel mese di settembre alla Fiera di Levante nell'ambito di un convegno fatto dal distretto di Puglia Creativa perché adesso è nato un distretto in Puglia sulla creatività sapete che il distretto di Puglia Creativa è fatto per il 90% da enti locali associazioni di categoria sindacati e poi da associazioni quasi tutte no profit che non è imprenditoria il 10% sono imprese allora qual è la differenza tra le associazioni perché tutti gli altri sono enti praticamente pubblici oppure associazioni di categorie tra le imprese quindi le cooperative le società e le associazioni le associazioni non dovrebbero avere dipendenti quindi perché non è impresa perché non costruisce un reddito non fa lavorare non ha un volume d'affari adeguato a fare un fatturato soprattutto non deve presentare i bilanci alla fine dell'anno e quindi non deve cioè è molto diverso il mondo dell'associazionismo da quello delle cooperative allora quando io dico se le persone si mettono insieme e lo dico in maniera molto semplice perché loro devono capire vuol dire che siamo diventati soci allora la cooperativa è fatta di persone che si mettono insieme fanno un capitale mettendo un tot a testa e ognuno di loro ci lavora e quindi è un socio lavoratore e quindi matura un credito rispetto all'azienda di cui è proprietario perché c'è una busta paga che ha testa il lavoro che ha fatto e dopodiché ci lavora tutti i giorni otto ore al giorno perché sai quanti quanti ci sono che dicono i soldi vanno sempre agli stessi perché quelli probabilmente si candidano a più progetti a più bandi molti non partecipano neanche ai bandi ormai tutto il mondo dei finanziamenti pubblici avviene attraverso dei bandi di gara il mondo teatrale pugliese è come dire dopo il progetto delle agenzie regionali a Puglia Film Commission Puglia Sound anche lo stesso Petruzzelli si è evoluto grazie al progetto dei teatri abitati i teatri abitati che cosa è stato tante compagnie teatrali che non avevano una casa che lo facevano in maniera continuativa è storicizzata quindi da diversi anni hanno potuto candidare un progetto in accordo con un comune che aveva un teatro disabitato per poterlo gestire che cosa è successo il fenomeno è stato questo quando una compagnia teatrale magari la conoscete perché di Ruvo non è molto lontano da qui come la Luna nel Letto che già gestiva un auditorium di proprietà del comune ha presentato il progetto l'ha fatto in continuità con quello che era il suo percorso imprenditoriale e artistico perché ha fatto il percorso che fece il Chisme 25 anni fa dicendo che c'è l'auditorium della scuola X di proprietà del comune ce l'ha dato in gestione e noi produciamo spettacoli e ospitiamo compagnie esterne è uscito il bando loro sono come dire hanno fatto un percorso di crescita rispetto a qualcosa che avevano già iniziato prima ci sono altri che invece non avevano mai gestito uno spazio non sanno assolutamente che cosa significhi gestire uno spazio di pubblico spettacolo facevano soltanto le compagnie teatrali però è uscito il bando hanno detto oh ci sono 80.000 euro partecipiamo hanno iniziato poi dopo aver vinto il bando a gestirlo alcuni proprio di Andria hanno deciso di non fare più questo progetto perché gestire uno spazio è talmente costoso che gli 80.000 euro se tu non l'hai mai fatto prima non ti basta neanche coprire la metà dei costi che sostieni allora ci si sono detti torniamo a fare la compagnia teatrale perché non è detto che un'impresa che sia una cooperativa o una società che fattura 20 milioni di euro è sana e una che le fattura due non lo è cioè non dipende soltanto da quanti soldi girano ma anche da da che cosa fai e se lo sai fare allora l'effetto questo per spiegare cosa che il bando è utile su una cosa che tu già sai fare che vuoi fare e vuoi far crescere non è utile per partire per partire ci sono le start up il progetto principi attivi è quello semplice fatto dall'assessorato alle politiche giovanili della regione Puglia qui loro domani fanno 18 anni e possono candidarsi se viene pubblicato uno nuovo ma c'è il progetto Nidi ce ne sono tantissimi altri fatti da altri assessorati perché in questo mondo della creatività se voi andate su Wikipedia banalmente vedere creativo c'è scritto di tutto voi sapete che non c'è un albo che definisce chi è attore e chi no chi è tecnico e chi no domani tu inizi a fare il tecnico e sei un tecnico lui inizia a fare l'attore ed è un attore la differenza la fa come dire il successo il successo di pubblico allora magari c'è quello che ha studiato la Carmelo Grassi che ha il curriculum che ha il diploma di attore ma non fa mai spettacoli perché non ha il talento che ha lui che invece ha voluto fare l'attore ed è diventato bravo e funziona il pubblico c'è quindi lo chiamano riempi il teatro e va allora questa cosa qua se a livello artistico creativo ha un senso perché se uno ha un talento lo deve poter esprimere a livello organizzativo e amministrativo dove non esiste un albo non c'è come per i dottori i medici gli avvocati l'albo degli avvocati l'albo degli ingegneri cioè il mio lavoro lo potresti fare tu domani se ne hai le capacità non esiste l'albo dei tecnici io chiamo lui a fare il tecnico di Copparia del Teatro Chisme poi se lo sa fare bene non so fare male sono fatti nostri ma non essendoci quell'albo significa che è tutto molto confuso ed è molto confuso anche rispetto a chi ragiona a livello di normative di pubblicazione di bandi e di quant'altro perché il progetto principi attivi non è altro che un duplicato di un progetto di start up che faceva già un altro assessorato alla regione Puglia che esiste da sempre semplificato ok però non è altro che un duplicato allora ci sono mille modalità diverse per accedere ai fondi però ci bisogna capire se io voglio quel fondo che cosa devo fare quali sono le percussioni che poi subentreranno nella mia impresa perché altrimenti rischio di aver fatto la scelta sbagliata perché non ti bastano i soldi per poter andare avanti ma c'è la possibilità una volta vinto il bando che magari il progetto non vada a buon fine cioè non vada avanti cioè i soldi vengono rubati e allora cioè secondo me ci devono fare proprio una facoltà universitaria c'è qualcuno che sa fabbricare le carte talmente bene che anche non facendo il progetto riesce comunque ad avere i soldi è anche vero che questo prevede la complicità dall'altra parte ma non complicità in malafere cioè non sto dicendo che il funzionario dell'ente pubblico è complice di Domenico Tacchio che non ha fatto il progetto e mi ha portato le carte quindi magari mi ha dato pure la bustarella non sto dicendo questo però sappiate ad esempio che tutti i dirigenti del comune di Bario della regione Puglia che stanno nell'assessorato alla cultura di quelli forse uno è venuto al chismet loro sanno del chismet soltanto attraverso i documenti che noi li produciamo e noi li invitiamo continuamente non per l'ecchinaggio ma perché tu devi vedere su cosa stai dando i soldi e lo devi vivere perché io te lo scriverò appunto nel migliore dei modi te lo presenterò infiocchettato il mio progetto sia prima quando lo candido sia dopo quando poi tu me lo devi valutare e darmi i soldi ora è diventato sempre più difficile fortunatamente perché non dipende dai bandi dipende da altri tipi di norme con tanti ormai tu non li potresti utilizzare quasi più prima tu potevi fare quasi quello che volevi adesso tu devi metterci i bonifici quindi è tutto molto più complicato però vi posso assicurare allora noi siamo già nel centro della Puglia quindi è più facile sia andare che venire ad esempio negli uffici della regione perché ci sono 50 km però immaginatevi quindi noi andare in assessorato e loro venire magari a verificare quello che stiamo facendo ma immaginatevi quanto è lunga la Puglia quindi nel Basso Salento o nell'area del Gargano se uno fa un progetto il funzionario lo vede una volta in un anno quindi è molto complicato allora lì subentra anche la qualità ed è quello che io ti ho detto prima su come tu lo presenti soprattutto come lo chiudi perché se io la legge non mica mi dice cioè mi obbliga a presentare delle carte però non mi obbliga a non presentarne degli altri io se voglio mettergli altri documenti aggiuntivi sono liberissimo di farlo ad esempio la mia abitudine è che quando presento un progetto consuntivo per dimostrargli che non sono solo fatture scontrini che hanno solo un senso come dire una visione amministrativa e fiscale della cosa li metto dentro anche oltre i materiali promozionali i video di quello che ho fatto li metto dentro anche la rassegna stampa di quello che ho fatto perché se sono uscito sui giornali probabilmente non dico sicuramente ma probabilmente quella cosa l'ho fatta cioè se tu leggi che stasera c'è il concerto di Adriano Celentano ad Andrea vai al Palaflorio e ti aspetti che ci sia il concerto sì o no? giusto quindi se qualcuno ha mandato ai giornali l'informazione probabilmente perché è reale la cosa se invece il concerto di Celentano io non l'ho fatto veramente l'ho detto solo alla regione e ho costruito le carte probabilmente non avrò mai un articolo sul giornale né per presentare il concerto neanche di qualcuno qualche critico che dice bellissimo oppure bruttissimo quindi è quella la qualità che va a migliorare un progetto dico anche che non sempre è apprezzata la qualità quando io presento dei progetti ma soprattutto i comuni che sono gli enti più vicini poi alla cittadinanza e soprattutto come dire le amministratori non sempre hanno le competenze per svolgere quel ruolo di assessore che gli viene dato ma non per cattiva fede o malafede perché in quella cerchia in quel partito l'unico che è disponibile a far l'assessore alla cultura che è sempre l'ultima ruota del carro insieme a quello delle politiche giovanili se c'è è quello che magari è più debile dal punto di vista come dire di elettorato quindi magari non sa neanche di che diavolo sta parlando quando noi gli presentiamo un progetto con tutte queste caratteristiche con un bilancio di previsione con un progetto artistico che lo affianca con un progetto di comunicazione quelli dicono che cosa è sta cosa perché di solito mi arriva la lettera dell'associazione in cui dice voglio fare questa cosa qui quel giorno in quello spazio e ho bisogno di 10.000 euro che cosa succede? che poi vai all'assessore e dici vabbè 10 sono troppi dammene 5 forse con 4 ce la faccio e questo è il problema di questo settore è un vero problema perché c'è un modo di avere dei soldi molto slegato in un certo ambito e invece molto complicato in diversi altri ambiti io mi rifiuto di mandare una lettera come quella oppure di fare la fila dietro le porte degli assessori perché gli ultimi ormai la comunità europea li dà in base a dei bandi ben definiti i ministeri li danno in base a dei bandi molto ben precisi a delle leggi o dei regolamenti molto chiari la regione Puglia almeno rispetto alle attività professionali lo dà in una forma molto chiara però vi posso assicurare che ho visto spettacoli finanziati anche dall'assessorato all'agricoltura ok ci sono spettacoli che vengono fatti e sono finanziati non dall'assessorato all'agricoltura ma dall'assessorato all'agricoltura per la presentazione della bietola faccio lo spettacolo di Domenico Tacchio per la sagra delle castagne faccio lo spettacolo del teatro sospeso che non vanno a bando è a chiamata diretta quindi è molto molto strano l'ambito tecnico con cui tu puoi avere dei fondi perché magari il cognato di Domenico domani diventa sindaco di Andra e lui per 5 anni probabilmente non ha più quel problema lì ma questo è un serio serio problema è veramente un problema perché non c'è più una valutazione sulla qualità ma c'è una valutazione su come dire personale rispetto a non al progetto ma alle persone allora questa cosa qui è un disastro perché nel momento in cui tu hai dei soldi come funzionava una volta per una conoscenza diretta se mettendo tutti gli altri da parte e stai facendo emergere qualcuno che non solo non se lo merita ma probabilmente non sa fare neanche quel lavoro lì perché altrimenti avrebbe partecipato a bandi avrebbe presentato un progetto serio ecco perché ti dico non c'è una legge e tu non puoi trovare la formula giusta perché io altrimenti avrei avuto non la casa garanzia un milione di euro in banca e non avrei avuto mai problemi finanziari di liquidità o economici forse mi sento conico io gestisco un'associazione e io sono presidente è un'associazione culturale allo stesso tempo abbiamo richiesto degli accessi a dei bambi pubblici comunali per le iniziative dentro altre state una cosa conica come dici tu siccome io sono un diciamo gestisco l'ambito organizzativo ho presentato io il banco occupandomi anche io di legge ovviamente l'ho presentato come dicevi tu con tutto ciò che concerne il cartagio il problema sempre è più grave che io risconda che questa è una comicità cioè andare nell'ufficio a funzionare preferendo la funzionare preferendo non sa neanche del progetto cioè non sa neanche come guardarlo e sono io stesso spiegarlo cioè il che è comico cioè il basso livello che poi ci si trova di fronte che in un certo senso fa anche sì che poi il tempo perché poi nel bando secondo me anche la tempistica è fondamentale nella presentazione soprattutto se ha un termine la presentazione del bando la tempistica è fondamentale se a sportello prima lo presenti è meglio è appunto in tutti i casi devi sempre presentarlo per primi in un certo senso però il problema è proprio in quel momento nel momento in cui se io mi vedo da l'altro lato se io fossi una persona che comunque non conosce vuole imparare da quel funzionario io non avrei imparato nulla cioè senti guarda ora da cittadino non da operatore culturale finché parliamo di uno spettacolo da fare nella piazza nella rassegna estiva del comune di Canicatti guarda è un problema però questa cosa qui la risconti anche nell'ambito sanitario cioè voi sappiate che un bilancio il bilancio di una regione come la Puglia al netto dei costi generali che sono dipendenti utenze fitti e quant'altro per l'ottanta per cento è destinato alla sanità il 20% tutto il resto quello che tu dici magari fosse un problema legato al funzionario che non sa di un bando che è stato pubblicato rispetto a un progetto di spettacolo perché poi alla fine stiamo parlando di uno spettacolo quindi se si fa o non si fa nessuno muore anche il mio compreso il mio ma anche quello di Benigni se io ho comprato un biglietto per andare a vedere Benigni e non si fa purtroppo pazienza ma questo problema è su tutto il resto allora siccome tu hai a che fare ecco perché ti dico sempre cioè ho ribadito spesso il concetto che bisogna farsi scrivere dell'amministrazione scrivere e farsi rispondere in maniera scritta ma anche se guardate sono delle banalità però io purtroppo nella mia esperienza sono abbastanza giovane non rispetto a loro rispetto ad altri però nella mia esperienza di bandi e guardate mi vengono proprio le acidità di stomaco quando partecipi ai bandi perché l'ansia che ti viene quando tu presenti una busta che hai già sigillato e non può più tornarti indietro per riverificare è tremenda ecco perché dico io mi vanto di non essere mai stato escluso dal punto di vista amministrativo rispetto ai documenti rispetto alla qualità del progetto vi posso assicurare che io chismet stabile di innovazione magari vengo ad Anglia e partecipo a un progetto scritto benissimo ma lo vince lui e il problema da noi è che tu non hai capito ancora cioè non tu che noi italiani non abbiamo ancora capito che siamo una comunità europea potrebbe succedere tra un giorno a Biceglie sapete che si è aggiudicato il laboratorio urbano di Biceglie una fondazione di Parma e questa cosa succederà sempre più spesso invece qui da noi se uno di Anglia viene a Bari c'è l'invasione se uno di Bari va ad Anglia vengono i forestieri a prendersi i soldi ma è così dovunque non è una critica ad Anglia o a Bari dove vivo io questo noi l'abbiamo vissuto in tutti i nostri progetti fatti fuori da Bari e noi abbiamo come dire per cultura mai invaso cioè non sono io quando noi gestiamo i laboratori urbani di Bari di Gioia di Turi e di Martina Franca in ognuno di questi laboratori urbani c'è qualcuno di quel luogo che conosce le persone e che sa fare quel lavoro in quell'ambito territoriale perché poi cambia molto anche questo nell'organizzazione perché uno di fuori deve avere un tempo di affiancamento proprio perché a me non interessa togliere il lavoro a chi risiede in quella città mi interessa svolgere il mio progetto nel migliore dei modi non devo avere il presupposto che devo sistemare i miei dipendenti e poi non pensare che forse una persona di Bari andare a Martina Franca tutti i giorni mi costa due volte di più questa però è una logica che esiste e che andrà avanti allora torniamo indietro perché altrimenti ci perdiamo nei meandri dei bandi allora la logica deve essere quella di studiare sempre e comunque così come tu studi quando devi fare uno spettacolo teatrale il testo lo devi sapere i movimenti che il regista ti ha detto li devi conoscere se sgarri il regista o ti fa provare all'infinito oppure ti dice vieni sostituito quindi la stessa capacità e lo stesso impegno ce lo devi mettere anche nella parte organizzativa che è noiosa però è noiosa per un artista per chi ha questo compito non deve essere noiosa io mi diverto vedere fare un come dire una situazione finanziaria triennale per capire come arriviamo alla fine del mese per me è il mio lavoro lo devo vivere con passione altrimenti non ce l'avrei mai fatta lavorare 18 ore al giorno tutti i giorni come si saluto la domenica le vigili di natale natale a fronte di domenico che devo andare sul parco e fare così quindi la passione è la prima cosa e poi la curiosità è la seconda perché non devi pensare di essere arrivato ma ogni giorno devi approfondire formarti studiare e capire e poi l'altra cosa la serietà cioè tu ti stai approcciando a me capita noi siamo la struttura privata più importante della Puglia nel settore culturale e vi posso garantire che quando ti capita sapete dei blocchi del patto di stabilità sapete che cos'è il patto di stabilità il patto di stabilità per un ente è io posso pagare tot cioè io ho in cassa 2 milioni di euro ma in base a un bilancio chiuso nel 2005 il governo mi ha detto tu non puoi spendere più dei soldi che hai speso nel 2005 quindi anche se io ho 2 milioni di euro ma nel 2005 ne ho spessi uno devo spenderne uno ma posso imperniarne due avete capito? lo ripeto perché è un passaggio importante per chi fa questo lavoro e ha un rapporto con gli enti io ho 2 milioni di euro nel mio cassetto però lui mi dice Vincenzo tu devi spendere quanto hai speso l'anno scorso non puoi spenderne di più non quanti ne hai nel cassetto quanti ne puoi spendere l'anno scorso io dico io ne ho speso solo un milione l'anno scorso lui mi risponde non mi interessa puoi spendere un milione però però puoi spendere un milione non impegnarne uno vuol dire che io faccio accordi con voi per 2 milioni di euro e vi dico l'altro milione ve lo do l'anno prossimo questo è il blocco del patto di stabilità quindi io mi impegno a spendere 2 milioni però siccome il mio parametro è quello del 2009 e lui mi dice guarda che nel 2009 ne hai speso solo uno un milione lo do in quest'anno l'altro un milione per lavori che voi avete fatto adesso ve lo do l'anno prossimo allora quando io vi dicevo che gli enti pubblici sono i peggiori dei pagatori è perché quell'anno prossimo potrebbe diventare due anni o potrebbe diventare addirittura tre anche questo motivato dal fatto che poi voi non venite a sollecitarmi pagami 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 tutti i giorni quindi farlo come un lavoro allora il blocco del patto di stabilità più tante altre cose che sono state inventate negli ultimi anni non dà più la possibilità a chi lavora perché poi un'altra cosa importante uno dice i soldi vengono sperperati in cultura è nel sociale sappiate che quando tu spendi dei soldi in cultura quell'euro che l'ente pubblico dà probabilmente ne porta quattro nel luogo in cui è stato svolto uno spettacolo quando io vi ho detto prima che tu vieni qui e ti prendi l'acqua la coca cola il succo di frutta la birra tu vieni qui per un progetto che è costato mille euro per l'ente pubblico magari dieci persone hanno speso diecimila euro poi sono andate al ristorante magari hanno prodotto l'albergo magari hanno utilizzato i mezzi pubblici questo è un impatto che è moltiplicatore vuol dire che quando tu investi un euro la gente fa sì che diventino cinque ma quella è la capacità imprenditoriale di chi poi fa quel progetto lì perché l'altra valutazione da fare è interna che significa fare un progetto dall'A alla Z lui viene da me e mi dice caro Vincenzo mi è venuto in idea voglio fare uno spettacolo con dieci attori ci mettiamo al tavolino ah ok dieci attori io inizio a prendere nota queste sono delle riunioni di produzione e questa è una riunione di produzione che potrebbe essere quella nell'ambito di chi fabbrica i divani allora lui viene da me anziché di voglio fabbricare questi quattro modelli di divani per cento pezzi ciascuno mi viene da me e dice voglio fare uno spettacolo uno Shakespeare con dieci attori in scena ok iniziamo a prendere nota dieci attori senti e quanto dovreste provare tutto il mese di novembre ok sono 30 giorni a testa poi mi fa però considera che io ho bisogno di un apparato lucido di un certo tipo che iniziamo a chiedere i preventivi ma per fare una cosa del genere ci vogliono due tecnici un fonico quello che si occupa dell'audio e uno che si occupa di luci ok prevediamo due tecnici dopodiché il regista guarda che sarà Michele Placido ti va bene? sì sì Michele Placido o Giancarlo Giannini diciamo di aver visto una foto con Giancarlo Giannini ok devo prevedere il compenso per il regista allora la mia bravura non deve essere quella di dirgli no ma sei impazzito perché è così io devo iniziare innanzitutto a capire esattamente quanto costa l'idea che lui ha avuto quello è il primo passo perché molto spesso ancora prima di parlarci uno già dice no ma così non lo fai mai il progetto innanzitutto tu devi valutare esattamente quanto costa un progetto il costo del progetto dopo deve diventare una tabella di marcia che significa un cash flow significa quando li devo uscire questi soldi io vi chiamo a lavorare a tutti e cinque perché fate parte dello spettacolo che lui ha detto voi sapete che a novembre dovete lavorare un mese quando vi aspettate di essere pagati voi? alla fine del mese quindi io nella mia tabellina al 30 novembre devo mettere i cinque stipendi dopodiché devo pensare il 16 del mese successivo devo versare gli oneri che sono quelli per farvi andare in pensione o per darvi diritto alla malattia ok? dopodiché tutto questo lo devo costruire in maniera molto chiara e capire quanti soldi mi servono anche a livello tempistico perché esce il bando lo vinco lo vinco voi sappiate che quando tu hai dei soldi in alcuni casi hai un acconto prima molto spesso non ce l'hai devi prima fare il progetto chiudere tutti i pagamenti e poi hai i soldi e vi ho detto prima che per tanti problemi chissà quando li hai quindi anche se tu vinci un bando e fai una cosa che però non sei in grado di permetterti se non hai fatto tutte queste valutazioni prima di gestione economica di un progetto di spettacolo perché uno non pensa che dietro a uno spettacolo che vedi ci sono due mesi di prove e tot persone che ci hanno lavorato ma in realtà è così come in tutte le altre cose quando tu fai questa analisi capisci se quel bando è interessante o no per te questo è allora tu lì devi saper gestire la tua impresa e poi come dire intercettare i fondi utili a quello che ti serve ma se tu non la sai gestire comunque puoi avere pure i soldi ma non andare da nessuna parte e magari non riesci a spendere o non li spendi bene li devi pure restituire perché te li tagliano allora tu primo passo riunione di produzione una riunione di produzione in cui la parte artistica dice la parte amministrativa e l'organizzativa che cosa vuole fare seconda riunione di produzione la parte organizzativa e l'amministrativa chiama la figura artistica e dice ok quello che tu vi hai detto costa tot considera che per fare questa cosa qui servono 50.000 euro attenzione non è che 50.000 euro li dobbiamo mettere oggi tutti insieme vi ho detto che ci deve essere anche un cash flow che è la tempistica in cui servono i soldi allora probabilmente subito ne servono 5 tra un mese ne servono altri 10 tra due mesi devi trovare 20 e l'ultimo mese devi trovare la differenza per arrivare ai 50 quindi devi fare anche un piano non soltanto di uscite ma anche di entrate per coprire quelle uscite perché nell'ambito dello spettacolo tu puoi non pagare lo stipendio ma l'F24 con i loro oneri che devi pagare il mese dopo lo devi pagare quindi alcune cose le puoi procrastinare se le entrate arrivano dopo il tempo che tu hai previsto altre assolutamente no allora che fai scopri quanto ti serve e in che tempi ti servono dopodiché inizi a capire se ce li hai o non ce li hai inizi non è che tu i bandi li vai a vedere quando hai deciso che devi fare il progetto perché può capitare pur il contrario trovo un bando per fare una produzione di Michele Placido dove c'è scritto proprio tutte le compagnie di Andrea che vogliono fare una produzione di Michele Placido possono partecipare a questo bando chiamano lui e dicono facciamo lo spettacolo di Michele Placido capita una volta su migliore di casi però potrebbe capitare che la parte organizzativa segnala una cosa del genere perché la parte organizzativa segnala altri tipi di progettualità perché sul spettacolo non ci sono mai bandi di questo tipo a parte qualche assessorato dell'agricoltura che chiama Domenico Tacchio e gli dice facciamo lo spettacolo di Michele Placido perché così ti ripago del sostegno elettorale che mi hai dato l'anno scorso ok detto questo convoco io la seconda riunione e gli dico allora quello che tu mi hai detto costa tanto questo tanto è sviluppato in tot periodi dell'anno ora ci servono 10.000 euro per iniziare come li troviamo ce ne abbiamo in cassa sì ok non ci sono problemi non ce ne abbiamo in cassa come facciamo e qui torniamo a quello che dicevo prima tu e io che siamo soci li mettiamo 5 a testa e iniziamo non c'è neanche questa possibilità ok che cosa abbiamo il capannone ho casa mia andiamo in banca e chiediamo i soldi un mutuo allora questa è una cosa che uno deve fare sempre se lui non ha una valutazione organizzativa ed economica di quello che ha in mente lui la fa a livello istintivo senza sapere esattamente che cosa succederà né a livello come dire di dettaglio ma neanche a livello generale è quello che io consiglio sempre a tutti anche a quelli che non hanno i soldi perché ci sono compagnie ad esempio una compagnia pugliese di Bari che sta avendo un grande successo a livello teatrale ha vinto il premio UBU che è uno dei premi più importanti a livello teatrale Fibre Parallele dice Alaniera e Riccardo Spagnolo non è che loro sono ricchi eppure fanno dei progetti produttivi importanti però io quello io come dire li conosco da quando sono nati quindi gli ho sempre dato una mano e gli ho sempre detto ragazzi voi siete una compagnia professionale quello che dovete fare nei vostri bilanci di progetto anche se voi che siete i proprietari dell'associazione non vi pagate di valutare il lavoro che svolgete perché se voi non lo valutate non vi renderete mai conto di quanto incide il lavoro che fate quindi se tu per scrivere un testo teatrale ci hai messo 30 giorni devi considerare 30 giorni di lavoro se tu ci hai messo 40 giorni di prove devi considerare i 40 giorni di prove a prescindere dal fatto che poi hai pagato e messo la busta pago oppure no nel tuo bilancio interno lo devi avere e qui ti dico a una domanda che tu mi hai fatto l'altro giorno e non c'è il dottor commercialista che tenga perché queste cose non le fa il dottor commercialista il dottore commercialista guarda le carte che tu gli hai consegnato alla fine del mese non nel bilancio interno che tu hai prodotto ma se tu vuoi valutare la tua produzione tenendo conto di tutto lo devi fare anche di quella parte di volontariato che tu hai dedicato al progetto poi lo puoi coprire con una voce in entrata che sono risorse proprie che corrisponde al tuo apporto cioè tu vali 1000 euro e dici non me li prendo e quindi li copro è come dire virtuale il passaggio però quando tu quantifichi quello che hai fatto anziché 10 forse viene fuori 20 e non sottovaluti quello che è stato il tuo apporto in quanto registro in quanto attore o in tutti gli altri modi perché l'altra fonte dell'autofinanziamento è non pagarsi cioè lavorare gratis lavorare gratis e allora lì dobbiamo essere soci perché se il nostro lavoro vale 6000 euro e noi siamo 6 ci diciamo ragazzi non ci paghiamo però non è che non vale più i 6000 euro comunque i 6000 euro li vale perché loro stanno lavorando con me un mese gratis siccome siamo la generazione anche noi dei 1000 euro al mese per questo ci valuto 1000 euro al mese spero che per voi quando sarà sarà un po' più alto allora detto questo uno deve gestire anche a livello micro un'associazione un gruppo anche informale di persone con una visione imprenditoriale minima tu quando fai un progetto di festival o di rassegne hai bisogno di responsabili amministrativi responsabili organizzativi responsabili di spazio responsabili tecnici se non hai i soldi per avere tutte queste figure nel tuo organigramma cioè nelle caselle in cui ci sono i ruoli probabilmente ci sono sempre i nostri due nomi ma quelle funzioni ci sono io faccio tutto però svolgo 10 ruoli diversi quando cresco insieme a me affiancherò delle persone in quei ruoli lì allora il fatto che tu ora non sei in grado di fare come dire di gestire tutto nel migliore dei modi non significa che non lo stia facendo comunque allora tu nella tua testa comunque lo devi gestire in un modo imprenditoriale se decidi di farlo diventare un lavoro nel futuro se decidi che è un volontariato è un altro discorso assolutamente un altro discorso e lì può capitarti quello di trovare l'impiegato di un certo tipo perché se vado io cioè allora vi racconto un episodio per farvi capire anche no no ma sono cose come dire particolari però che fanno capire i meccanismi il Kismet ha gestito per quattro anni il Momart il MoMA era una discoteca di Adelfia una tra le più importanti in Puglia si è scoperto che chi lo gestiva era un criminale quindi è stato sequestrato il bene ed è stato chiesto al Kismet dalla regione dalla prefettura dalla questura dal tribunale e da Libera di Don Ciotti spero che lo conosciate Don Ciotti di gestire quello spazio e trasformarlo in un centro culturale noi abbiamo anche molta esperienza a livello sociale e culturale di questo tipo ad esempio all'interno del Fornelli che è l'istituto minorile di Bari dove ci sono i minorenni che hanno fatto dei reati noi abbiamo una sala teatrale e proprio domani e dopodomani abbiamo in scena uno spettacolo con un ex detenuto che tra l'altro è di Barletta che dopo che è uscito ha sistemato tutti i suoi guai con la giustizia ha continuato a fare l'attore ed è un nostro attore e lui non ha studiato è un talento ha un'energia di quelle incredibili non ha studiato cioè quello gli scippi faceva detto questo abbiamo preso in gestione questa ex discoteca c'entravano duemila persone c'era un ristorante e tre bar ok noi smantelliamo tutto e chiediamo la licenza di un bar come quello che sta qui piccolino il comune innanzitutto noi diciamo stiamo subentrando alla vecchia gestione che era quella dei mafiosi scopriamo che i fascicoli del MoMA sia il comune che l'ASL non esisteva chissà come mai vabbè chiediamo la licenza del bar non ce la danno allora uno si chiede io sono non è che guarda non è che c'è una non lo fa il dottore commercialista non lo fa l'avvocato non lo fa il consulente del lavoro chi lo fa questo lavoro di interfacciarsi con un ente pubblico per chiedere semplicemente una licenza del bar già esistente ce ne stavano tre più un ristorante una cucina e un ristorante lì dentro è un lavoro che non è che tu hai dei consulenti non è che puoi avere un consulente per ogni cosa altrimenti non ti basterebbero un miliardo di euro per gestire un'attività quindi come dire il capo si alza le maniche e cerca di capire scopriamo quindi che non ci danno la licenza del bar io vado nell'ufficio e gli dico guarda allora può essere che lo gestisce un mafioso e ha tre bar e un ristorante lo gestiamo noi facciamo l'istanza per fare per fare una semplice pratica di licenza del bar ad uso interno ad uso interno non era un'attività commerciale esterna non è alla strada e tu mi dici di no allora lì devi capire con intelligenza che cosa fare e non è una cosa tecnica la mia risposta è stata ok io domani vado su tutti i giornali e gli dico che se uno fa il mafioso può aprire tre bar e un ristorante io nello stesso spazio non posso avere un bar ad uso interno questa non è una competenza non è che tu hai studiato per saper rispondere così devi stare dentro le cose saperle capire e saper rispondere quello ha capito che cosa doveva fare perché ad Adelfia voi non so se ci siete mai stati non ci sono grandi motivi per andare ad Adelfia non c'è un teatro non c'è un cima non c'è niente quindi quella impiegata non sapeva neanche che cosa significare avere il bar all'interno di un centro culturale come banalmente può essere il bar alla Warner di Casa Massima oppure alla multisala qui ad Andrea cioè il bar si è aperta la multisala la logica era la stessa ma quello non avendo mai vissuto una cosa del genere non sapeva che rispondere non poteva neanche verificare le carte perché non c'erano più saranno scomparse perché lì dentro effettivamente non potevano starci tre bar e anche un ristorante voi non l'avete mai visto ma è assolutamente assurdo e questa non è un'altra competenza del dottore commercialista perché tutti sono abituati a chiedere qualsiasi cosa al proprio consulente il consulente non è il mio interno quando tu devi partecipare a un bando ti può dare un parere fiscale e tu devi far come dire devi far frutto del suo parere perché ti serve nelle valutazioni che devi fare all'interno della tua impresa mica ti può dire lui cosa devi fare come lo devi fare e quant'altro lui ti può dire i risvolti fiscali e tecnici di quello che tu vai a scrivere rispetto all'IVA rispetto a una serie di altre cose perché un altro volete sapere qual è l'errore che fanno tutti non considerare gli interessi passivi voi sapete che quando chiedete i soldi alle banche se tu chiedi mille euro non è che li restituisci mille euro alle banche li restituisci mille cinque perché ci sono degli interessi passivi che la banca ti calcola in base ai tempi in cui li restituisci e in base alla cifra che tu hai chiesto ok quindi tu ne chiedi noi abbiamo chiesto sei mila euro ne dobbiamo restituire nove mila in cinque anni tu presenti un progetto non c'è un acconto in questo progetto te lo aggiudichi hai il saldo soltanto alla fine uno degli errori che fanno quasi tutti è non considerare il fatto che se tu chiedi dei soldi in banca probabilmente devi pagare gli interessi e non lo consideri nel tuo prospetto economico e finanziario quindi alla fine del progetto tu pensi di aver speso 100 in realtà ne spesi 130 hai 100 dall'ente che ti ha commissionato il progetto e sei fuori di 30 mila euro perché ci sono questi ci sono i soldi delle ritenute delle imposte che uno non considera mai l'altro errore se io devo essere pagato con ritenuta la conto che è del 20% non è che il mio valore è il netto che lui mi dà il mio valore è anche quel 20% che lui poi versa allo Stato per conto mio però molto spesso la gente fa il conto su quello che mi dà non su quello che poi trattiene e versa lo Stato lo stesso errore lo si fa sull'IVA quando l'IVA non è un costo non è un ricavo e quindi non è tuo io li prendo i soldi dei biglietti quel 10% o 22% o 25% come sarà tra qualche anno lo devo versare perché non sono miei io li prendo e li verso però li prendo oggi e li verso il mese successivo poi ci sono vari regimi IVA c'è quello forfettario c'è quello trimestrale c'è quello mensile però se tu a questo serve il dottore commercialista a darti in cazzo di questo tipo poi sei tu che lo devi fare il prospetto del bilancio e sei tu che conosci la tua materia quindi sai valutare quanto costa un regista per un mese di lavoro o un attore per 15 giorni di prove mica te lo dice il dottore commercialista e se non lo sai sei tu che ti devi o improvvisare oppure capire dove trovare quelle informazioni lì perché altrimenti non vai da nessuna parte i consulenti ti servono ma vi posso garantire che le norme cambiano così velocemente in questo paese che consulente sempre un attimino indietro perché cambia tutto ogni giorno ora il discorso di trovare dei fondi è fondamentale non soltanto perché li devi trovare perché l'altra cosa che si dice banalmente trovare sponsor io lo so benissimo che da questa parte quei 50 mila euro non li avrò mai è difficilissimo trovarla però c'è una cosa che sta prendendo sempre più piede soprattutto da noi che è quella dello scambio dello sponsor tecnico del baratto che significa io ho bisogno di una cassa non ce l'ho lei vende le casse me la dà e io in cambio le do 50 biglietti dello spettacolo che ho prodotto che lei regala a tutti i suoi amici e a tutti i suoi clienti è uno scambio tecnico dove non c'è un giro di soldi oppure i soldi sono pari cioè la cassa mi costa mille io le vendo biglietti per mille euro quindi non ci sono soldi che entrano e che escono ma è uno scambio tecnico allora dove non posso arrivare con dei soldi ci posso arrivare con la qualità del progetto che io sto sviluppando perché se lei ha un riscontro dei suoi clienti positivo che dicono guarda mi hai fatto vedere uno spettacolo bellissimo mi sono divertito un sacco mi è piaciuto molto profondo funziona probabilmente lei quando ne faccio un altro mi dà un nuovo sostegno a lei non costa a me non costa è una cosa che può funzionare questo è quello che sta succedendo adesso che sta succedendo nelle regioni del sud perché nelle regioni del sud i soldi che circolano sono molto meno rispetto a non perché prima vi ho spiegato dei teatri abitati i teatri abitati sono le compagnie che hanno trovato una casa nei teatri dei comuni che non lo aprivano il teatro perché un teatro deve essere vissuto è come una biblioteca è come una scuola deve essere vissuto è come casa vostra se casa tua la chiudi e ci torni dopo due anni la devi non dico ristrutturare completamente ma quasi perché la casa non essendo vissuta come dire cade a pezzi giorno dopo giorno la stessa cosa è un teatro sapete che con la logica dei teatri che aprono con la stagione del teatro pubblico pugliese se ci sono 10 spettacoli in un anno viene aperto 10 volte allora perché ci vuole una figura manageriale oltre che artistica perché io teatro abitato non devo sfruttare quello spazio soltanto per i 10 appuntamenti che mi dà il teatro pubblico o che fa il comune con l'associazione privata devo utilizzarlo nel migliore dei modi come lo utilizzo? mettendo a sistema tutte le risorse che ho io vi ho spiegato che cosa ho fatto con il chisme ma noi lo aspettiamo anche conveni medici ho una platea di 200 posti ho tutte le attrezzature tecniche posso ospitare pure un convegno medico o di ingegneri quindi lo devo sfruttare il più possibile però devo sapere che cosa significa da un punto di vista normativo e da un punto di vista anche economico perché c'è gente che improvvisando si chiede meno di quello che spende perché non sa neanche quanto spende perché non tiene conto dei costi generali dei costi di ammortamento delle attrezzature che ha comprato non tiene conto delle ore delle utenze rispetto ad esempio al riscaldamento perché riscaldare ambienti così grandi ha un costo enorme quindi le figure manageriali devono esserci in tutte le progettualità comprese quelle artistiche e quelle di gestione perché avere uno spazio in cui entrano delle persone noi al chisme ospitiamo una marea di bambini perché facciamo mattine per le scuole dai ragazzi dei bambini di 6 anni fino ai ragazzi dell'università e avere la responsabilità di ospitare ogni giorno bambini perché magari quelli più grandi sono un pochino più autonomi è una responsabilità quindi ora per scegliere le battute fare un corso per saper usare un estintore o per saper fare la respirazione bocca a bocca o semplicemente per capire quali sono le vie di uscita e di evacuazione è fondamentale è fondamentale perché altrimenti tu rischi che in un caso di emergenza da essere una cosa banalissima diventi una tragedia perché non sai esattamente che cosa fare e dare in maniera improvvisata in gestione uno spazio a chiunque si presti voi sapete che i teatri comunali tutti vogliono gestire il teatro ma saper fare uno spettacolo non è la stessa cosa di gestire uno spazio sono due cose totalmente diverse alcuni hanno la capacità di farle entrambi ma non è detto che uno sappia fare l'altro assolutamente no questo è uno dei punti deboli del progetto teatri abitati perché Michele Sinise è di Andrea non è che siccome gestisce uno spazio improvvisamente sa usare un estintore deve fare un corso per poterlo fare quindi ti devi professionalizzare e devi aggiornarti perché magari il modello dell'estintore tra cinque anni cambia quindi il certificato che ti danno ha un valore ha una durata di tot anni perché tu poi devi fare il corso allora uno deve sapere quali sono i suoi talenti trasformarli in competenze e utilizzarli negli spazi giusti nei momenti giusti altrimenti non si va da nessuna parte perché io ho un attore e non gli faccio fare il tecnico un tecnico non gli faccio fare l'attore poi c'è qualcuno che magari è così bravo sa fare entrambi le cose ma è un caso raro non è una regola perché tutti si improvvisano a fare tutto infatti il mondo della creatività ve l'ho detto prima non ha albi tutti possono fare tutto lei si sveglia domani e vuole fare la ballerina o vuole fare l'attrice magari ha talento e ha più successo di lei che ha studiato venti anni in accademia e non riesce mai a fare nulla di nulla ma è un caso perché talento se tu non lo coltivi puoi istintivamente saper fare saper danzare ma poi tecnicamente non sei in grado di portare avanti la cosa che è il corpo che ha dato la possibilità di come dire se non studi non vai avanti studiare però significa dedicare del tempo alla cosa che ti piace quella è secondo me la scommessa trovare quella cosa che ti piace però non è facile perché non è che hai sempre opportunità per trovarle uno non è che scopre di fare cinema così magari devi avere un'esperienza fare un laboratorio di cinematografia per questo voi dovete utilizzare tantissimo spazi come questi poi magari scoprite che quel laboratorio non vi piace e non lo fate il laboratorio di teatro non vi piace e non lo fate così come potete fare il corso di nuoto dopo due settimane diciamo non mi piace cioè mi annoio e ve ne andate però le dovete sfruttare queste occasioni uno spazio come questo ad Andrea così come ce ne sono tanti in regione siccome non c'è l'attenzione da parte vostra e non c'è neanche la bravura da parte nostra di spiegarvi come può essere utilizzato è uno dei punti fondamentali per il cambio generazionale perché magari voi che non avete mai fatto un'esperienza fate una prova e vi rendete conto di avere un talento che non sapevate di avere è lì che deve subentrare la curiosità io mica sapevo quando avevo 18 anni che potevo essere il direttore di un teatro ma era proprio lontano dalla mia visione era proprio lontano dalla mia visione sono diventato direttore di un teatro adesso di un teatro che si candida a diventare teatro di rilevante interesse culturale perché lui ha spiegato all'inizio Consorzio Teatri di Bari è mettere insieme due strutture che possono candidarsi ad essere un'unica cosa più grossa più solida e più importante ma non è che io lo sapevo quando ho iniziato me l'ho detto come ho iniziato andavo dopo che mi alzavo la mattina alle 5 per fare le fotocopie perché qualcuno non voleva fare le fotocopie migliaia e migliaia di migliaia di fotocopie allora uno il suo percorso lo deve trovare ma se non sperimenta quando lo trova e per sperimentare bisogna fare delle esperienze per fare queste esperienze bisogna dedicarci del tempo dedicarci del tempo significa provare a capire se quella cosa ti piace o meno e magari scopri pure che una cosa fatta così per passione può diventare anche il tuo lavoro sapete quanti talenti ci sono che sono stati inespressi perché non hanno mai portato avanti quello che in realtà per cui erano nati così ce ne sono tanti invece che fanno quel lavoro e non sono per niente portati e magari voi scoprite questo è semplice l'avete tutti i giorni allora trovate la cassiera del supermercato che sta con la faccia così quello che lavora alle poste che sta così magari un insegnante che non sopporta i ragazzi eppure insegna da vent'anni invece ce n'è un altro che ama quel lavoro e voi lo capite prima di tutti se quell'insegnante lo vuole fare o non lo vuole fare sta lì per lo stipendio oppure sta lì perché anche ci crede perché per lo stipendio ci devi stare ma ci devi credere ci devi mettere tutto quello che puoi nel lavoro che fai ma se non provi cioè non vai più da nessuna parte io sono una delle ultime generazioni in cui andava di moda il posto fisso il posto fisso adesso è un come dire è una cosa astratta uno perché l'età pensionabile si allunga sempre di più e quindi chi c'era non se ne va e quindi appunto la disoccupazione giovanile aumenta e per la comunità europea prima erano 30 anni poi era 33 adesso è 35 tra un po' arriverà under 40 considerati giovani dall'altra parte il posto fisso non c'è più perché soltanto i dipendenti pubblici hanno la possibilità del posto fisso e neanche più c'è tutta una storia di precari nella regione Puglia di gente che lavora da 15 anni con contratti che si rinnovano di un anno in anno quasi nel settore privato nel settore privato considerate il fatto che l'articolo 18 che forse avete sentito a qualche telegiornale l'articolo 18 serve a tutelare i dipendenti di imprese private quando però le imprese hanno più di 15 dipendenti sappiate che in Italia e nel meridione ancora di più 8-9 imprese su 10 hanno meno di 15 dipendenti quindi si fa una lotta su una cosa che concretamente non è un vero problema di noi italiani perché non ci tocca direttamente volete un altro esempio quando io vi ho detto che se tu fai l'attore e hai bisogno di provare il regista ti dice non sei pronto ad andare in scena non sei pronto ad andare in scena molti di voi ballano qualche ragazza fa danza vi capita di provare ore e ore e ore sempre lo stesso passo che non vi riesce non vi riesce non vi riesce la stessa cosa è quando fai l'attore no? se tu devi fare l'attore e hai bisogno di provare 18 ore nessun contratto collettivo nazionale del lavoro ti dà la possibilità di farlo perché il contratto collettivo nazionale del lavoro del mondo dello spettacolo è esattamente come quello del agricoltore come quello dell'operaio dice tu devi lavorare 6 ore virgola 80 che sono praticamente 7 ore quasi ma secondo voi se uno spettacolo dura 7 ore che fa? è lo straordinario uno e sapete anche un'altra cosa un lavoratore dello spettacolo viene assunto per il giorno dello spettacolo ecco perché vi dico che siamo in mano degli incompetenti per colpa nostra perché noi li scegliamo e li mettiamo lì quelli che ci rappresentano e anche i politici che poi decidono allora capita che lui inizia uno spettacolo alle 9 di sera gli spettacoli teatrali sono quasi tutti la sera alle 9 9 e 30 lo spettacolo teatrale dura 4 ore il contratto di lavoro per un attore è giornaliero cioè il giorno della recita io ti assumo e ti do 100 euro sapete che se lo spettacolo dura più di 3 ore quindi non finisci a mezzanotte ma finisci a luna e in quell'ora no dovrebbe scattare un'altra giornata lavorativa perché non è soltanto una questione di paga cioè non è che ti do 110 euro anziché 100 e ho risolto il problema c'è pure tutta una questione relativa a un incidente sul lavoro e secondo voi cioè l'Italia è uno di quei paesi in cui la cultura il teatro cioè da sempre sono esistiti c'è qualcuno che abbia detto ma forse piuttosto che aggiornati dovremmo assumere ad ore perché se lo spettacolo inizia alle 9 e finisce a luna di notte quell'ora deve essere coperta e io non devo essere obbligato ad assumerlo due giorni anziché uno perché altrimenti da doppi costi io non mi posso permettere più di fare lo spettacolo questo è un esempio banalissimo di come le cose non funzionano per delle cavolate delle cavolate e questo ti dà la possibilità ad esempio se lui ha bisogno di far provare i suoi attori quei 5-12 ore anziché 6 come prevedi il contratto vi paga ad ore e rispetta anche il contratto cioè invece noi siamo sempre obbligati a fare le cose in maniera illegale perché è tutto assurdo volete sapere un altro esempio perché queste sono le cose che poi saranno i problemi di tutti i giorni sia di chi farà l'operario sia di chi farà l'attore sia di chi farà l'imprenditore culturale il creativo perché adesso molti disoccupati fanno i creativi perché così almeno hanno qualcosa da fare allora ogni volta che tu vieni assunto da qualcuno devi fare una visita medica perché devi essere idogno prima di fare un lavoro e poi dovresti farne una dopo perché devi capire se quel lavoro che hai fatto per caso ti ha procurato qualche problema sanitario immaginatevi lui che fa l'attore e lavora con me due giorni al mese per dodici mesi la normativa dice che io dovrei fare la visita medica ogni volta che lo assumo in entrata e in uscita quindi se lo chiamassi due volte al mese per dodici mesi lo dovrei fare per ogni mese di lavoro la visita medica in entrata la visita medica in uscita ventiquattro visite mediche ventiquattro visite mediche che costano mediamente 30-40 euro a visita che dura un minuto e dieci secondi poi questa visita medica soltanto con me dopodiché lui siccome è un attore un libro professionista cioè lavora con più compagnie lavora anche con te con te con te poi siete obbligati quanto me per ogni volta che lo assumete a fare le visita medica lui sta sempre dal medico noi spendiamo una barca di soldi su cose assolutamente inutili inutili perché se l'associazione di categoria degli operatori teatrali dicesse alle Asla alla regione Puglia sentite potete mettere un medico di lavoro per ogni provincia che fa una visita medica a lui all'inizio dell'anno e alla fine dell'anno magari ne fai una a metà dell'anno pure va così non muori e vale per tutti gli imprenditori che mi assumono è banalissimo ma questo è un altro problema perché poi la vita si complica su queste cose qui si complica su queste cose qui allora tu saresti sempre dal medico e io sarei sempre a pagare i medico e poi è quello che avviene come si risolve si risolve che uno si riprende la responsabilità di decidere che linea prendo in questa cosa è orario dovete andare a mangiare che dice a chiamo questa cosa è oltre a chi Grazie a tutti